Come si fa a non amarla? Piat 500L, vediamola subito Molto bello il taglio laterale con i cerchi in lega Che le danno un tocco di sportività in più Il battistrada è consumato purtroppo Quindi le gomme andranno cambiate Però i cerchi sono perfetti Gli interni sono in perfette condizioni La 500L poi offre un sacco di spazio nel posteriore C'è il ruotino di scorta E i sensori di parcheggio Accendiamola insieme Ecco qui Sistema di infotainment che si accende Allora, l'auto ha 12.035 km Concentriamoci però sull'infotainment Bellissimo lo schermo a colori con il navigatore Abbiamo poi il tasso per attivare la modalità city Il clima automatico V-Zona Molto bello Presa USB, presa AUX Presa da 12V I tasti al volante Cosa si può dire di questa Fiat 200L? Parliamo della sua versione 1.16 cilindrata, 120 CV, multi-jet Con motore diesel quindi Ha i fenni nebbia, sensori pioggia Un sacco di comfort Tra cui il navigatore satellitare La possibilità di connettere il proprio dispositivo C'è Uconnect Ma si può utilizzare anche Apple CarPlay e Android Auto Se siete alla ricerca di una buona utilitaria Questa è sicuramente quella che fa per voi Scopritela insieme a tutti gli altri nostri usati aziendali Andando su rattiauto.com Link in descrizione Vi ringrazio per aver guardato questo video E alla prossima Ciao! 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 Grazie a tutti.